Nel Vangelo di Giovanni oggi troviamo un Gesù che per tre volte pone la stessa domanda a Pietro Mi ami tu, mi vuoi bene? Vediamo che le risposte non sono mai soddisfacenti, anzi Pietro rimane anche un po' deluso Forse è proprio quello che succede anche a noi Tante volte le nostre risposte non accontentano il Signore Le nostre risposte non sono complete Magari ci scoraggiamo anche Invece Gesù vuole ripeterci proprio per farci camminare di nuovo Per farci pensare nuove risposte, nuovi cammini, nuovi processi Anche in questo momento di ripresa delle celebrazioni forse dobbiamo anche noi cambiare un po' la mentalità Essere cresciuti e farci domandare proprio da Dio se li vogliamo bene E la nostra risposta sarà uguale oppure è cambiata in questi mesi Buona giornata